Quando eravamo all'università, mi piacevi da morire. Non ci siamo mai presentati. Emma Morley. Ti accompagno a casa. Non sono brava in queste cose. Forse potremmo solo restare amici. Ok. Il giorno che si incontrarono, Dexter e Emma non potevano immaginare... Ci rivediamo, vero? Credo proprio di sì. ...che si sarebbero inseguiti per vent'anni. Sono un disastro! Di sicuro non un disastro totale. Tutti sono un po' persi a venticinque anni. Tu no. Giovane produttore televisivo, con superattico e decappottabile. Ti serve una vacanza. Dobbiamo stabilire delle regole. Regole? Non voglio mettere a rischio la nostra amicizia. Camere separate. Non ci si bacia. E non si fa per nessuna ragione il bagno nudi. Vieni! Sì! Io e Emma siamo solo buoni amici. Ne sei proprio sicura? Comunque non è il mio tipo. Ed è per questo che mi piace. Seguirete la vita di due persone per un giorno ogni anno. In occasione dell'anniversario del giorno in cui si sono conosciuti. Non ve ne andate! Queste tv di qualità! Sono il re della televisione arrogante. Però sei il re. Sono molto meglio quando ci sei tu. Diventerò una di quelle maestre che ispirano. Ci sono quelli che ce la fanno e quelli che non ce la fanno. Insegnano. Sai che ti dico? Vattene al diavolo! Io ti amo, Dex. Ma la verità è che non mi piace più. Ti stai per sposare. Sì. Ne manchi, Dex. Sei preoccupata per il mio futuro. Non è quello che mi aspettavo. Ha un nome, questo? Alla maschietto. E tu che aspetto hai? Di un divorziato nei casini. Ho bisogno di parlare con qualcuno. Non con qualcuno, con te. Tu sei diventato una bella persona. E in cambio l'hai resa la donna più felice. Qualsiasi cosa accada domani, viviamo oggi. Non lo dimenticare mai. Ciao, ciao!